Sì, è un evento eccezionale. L'Arena Civica di Milano, deve giocare per casa Ghini, nel Varga e con Lanzana. E poi diamo tutte le notizie anche dell'eccellenza della prima. Quindi se volete anche sentire la... E' un evento eccezionale. 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 E' un evento eccezionale ed è un evento eccezionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.